Vado a portare a portare a portare A portare a portare Io vengo dalla Frenistina è caduto un albero sulla strada perché le condizioni sono quelle che sono quindi i tram non passano più e tutto bloccato quindi dalle mie parti si diceva Tacco punta ragazzi Abbiamo cambiato piani della giornata Cosa dovevate fare? Andare al lavoro E invece siete stati? L'intenzione era andare in scelta ma in realtà non lo stiamo andando Fate una passeggiata con la mente Sì, andremo Noi dovevamo andare a registrare un disco stamattina In realtà così non si poteva raggiungere lo studio Perché è un po' alto lo studio E quindi avete deciso di fare una passeggiata Sì, praticamente con un po' di fatica Perché le strade sono completamente ghiacciate Comunque non sono due fiocchi Ho nevicato tanto Sì, sì Sì, sì Sì, sì